A Cicli i carabinieri hanno arrestato Neder Gadab, 23 anni, residente ad anni in città, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per furta aggravato e deferito invece a pedelibero tre minorenne alla competente autorità giudiziaria. I fatti risalgono al dicembre 2017, allorquando presso la scuola Vittorini, sita nel Corso Umberto, furono trafugati nottetempo della pausa per le festate natalizie, circa 35 computer, notebook, un tv del cd e 17 tablet per un valore di oltre 25.000 euro. Durante le notti seguenti, i quattro giovanissimi lati si erano infatti introdotti all'interno della scuola, forzando una porta d'ingresso e avendone fatto razzia di importanti strumenti tecnologici. I militari intervenuti, dopo un accurato sopralluogo, si erano messi immediatamente alla ricerca di elettracce utile alle indagini. Venne analizzata anche con particolari dovizi, un enorme volo di sistemi di videosorveglianza privata che ha permesso agli stessi carabinieri di capire chi fossero i quattro soggetti coinvolti nel raid furtivo. La tenenza ha poi rassegnato le risultanze alla procura di Ragusa, che ha richiesto misura cautelare per il magrebino e la procura dei minori di Catane è stata infatti informata per quanto concerne la posizione dei tre minorenni.